Eccomi siamo al porto di Salerno, la vedete alle mie spalle, è appena arrivata la Itamari, 172 migranti, lo avete detto, tra gli altri 81 uomini, 15 donne, 55 minori non accompagnati, 4 bambini tra i 3 e i 10 anni accompagnati e 2 neonati, sempre accompagnati. Buona salute e negativi al Covid. Adesso faranno altre visite, Francesco Russo, prefetto di Salerno, come li accogliamo? Sì, come prevediamo nel nostro metodo di accoglienza, ci sarà una visita con dei tamponi, saranno rifocillati, dopodiché saranno condotti in un'altra zona della città per l'identificazione, così si completa tutto il sistema del momento iniziale dell'accoglienza, poi man mano che sono identificati saranno trasferiti nei vari centri di accoglienza che abbiamo già individuato per tutti quanti. Grazie prefetto Russo e allora buon lavoro, da Salerno in tutto, Linea Studio.